bella a tutti ragazzi io sono chef gabriele o dovrei dire l'l01 oppure l'l01 che vuol dire questa cosa vi ho appena detto che capraccio vuol dire se non è chiaro sto recitando beh ve lo spiego dopo il titolo di oggi che ora andiamo a vedere insieme che vi sorprenderà detto questo andiamo a vedere insieme il titolo di oggi il titolo di oggi è chef gabriele video blog secondo canale esatto ora vi spiego meglio però prima cameraman saluto i nostri fan buonasera buonasera a tutti la cosa mi piace del camera che dice sempre buonasera ma non si sa che ora esce il video questa cosa mi piace buongiorno come vi pare un pomeriggio buonanotte domani allora ragazzi esatto ho aperto un secondo canale ma di che cosa retterò in questo secondo canale tratterò gameplay recensioni video blog più diverso da quello che faccio su questo canale insomma adesso non posso parlare su questo perché ho ragionato se io voglio parlare un giorno di telecom italia e voglio far sapere la mia su telecom italia su fastweb su youtube non lo posso caricare su un canale si chiama il cucinano chef gabriele dove tratto di cucina perché logicamente voi iscritti e mi seguite potete dire ma che cazzo me ne può fregarmi di questo che io mi so iscritto per i video di cucina che me ne può fregare a telecom su questo canale insomma adesso siete a venire un secondo canale ma di cosa tra di gameplay di che cosa farò beh ho deciso innanzitutto di fare due serie che ancora non sono attive perché ci sto lavorando due serie sicure sono su eurtrack simulator 2 e su the sims 3 poi parlerò di altri giochi come il simulator di benzinaio e forse 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 gta 5 online non prenderà su parola gta perché non ne sono sicuro comunque vi avverto che sul secondo canale ho dei problemi sui caricamenti per i gameplay quindi entro i primi di settembre inizieremo i caricamenti gameplay per adesso mi sto limitando a recensioni cose così appena aperto ragazzi di fresco fresco di notizia vi dico che il link del canale è in in cima alla descrizione quindi che dirvi niente ho aperto questo secondo canale mi chiamo l'l01 l'l con due l in pratica lo so ragazzi che l'l si iscrive con una l ma per fare una cosa più più così comunque niente ah si vi avvetto che in questo secondo canale come già detto il video dove già detto sul secondo canale in un video non ci sta regia non ci sta cameraman non ci sta direttivo sarò solo io è tipo il canale non lo so di golden jumpy o di zeb 89 sarò solo quindi la regia sarò io quindi scusarmi se non ho il microfono ci ce l'ho il microfono insomma le cose saranno un po' diverse detto questo grazie a tutti per essere arrivati qui vi ricordo il link del canale in cima alla descrizione iscrivetevi sostenetemi lasciare un bel pollice in su per questo video iscrivetevi al canale mio il mio secondo canale grazie a tutti per essere arrivati fino a qui oggi non farò il finale vi invito a cliccare bla 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 ma il video finisce qui grazie a tutti per essere arrivati fino a qui al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti